Un benvenuto agli ascoltatori da parte di Biagio Mannino. Si è concluso il ventesimo congresso del partito comunista cinese e Xi Jinping ha ottenuto il terzo mandato entrando così nella storia non solo della Repubblica Popolare Cinese ma anche in quella dei leader nel contesto globale. Il terzo mandato al quale Xi Jinping ambiva fino a partire dal 2018 quando con la modifica della Costituzione cinese veniva eliminato il vincolo del doppio mandato. Di fatto Xi Jinping ha ottenuto quello che era stato programmato ancora quattro anni fa e lo ha ottenuto in un momento particolarmente difficile perché l'opposizione all'interno del partito comunista cinese nei suoi confronti era sicuramente molto presente e molto forte tenendo conto che proprio nel 2018 la Costituzione veniva modificata con 2.998 voti a favore su 3.000 delegati. Ebbene Xi Jinping come detto riesce ad ottenere questo successo, un successo in un momento particolare in cui la Cina si trova ad affrontare sì da un lato i successi ma anche dall'altro delle problematiche che andranno a incidere sostanzialmente nel futuro ma nuovamente Xi Jinping riesce a far modificare sostanzialmente il contesto costituzionale cinese divenendo quello che viene definito il nucleo centrale del partito comunista cinese. Insomma per Xi Jinping un successo, un successo che lo rafforza da un lato però è altrettanto vero che nel contesto interno i malesseri restano. Xi Jinping ha saputo portare un messaggio comunicativo molto forte evidenziando i successi ma mettendo da parte gli insuccessi. I successi ottenuti nell'ambito di una Cina, una Cina sempre più forte nel contesto della politica internazionale, una Cina che ha saputo rispondere alla pandemia di coronavirus e contemporaneamente una Cina che guarda sempre più in là anche alla conquista dello spazio. Ma le problematiche come detto in ambito interno che porteranno i loro riflessi soprattutto nei prossimi anni si legano a un calo vistoso demografico. L'1% della popolazione in meno ogni anno che causerà inevitabilmente il dimezzamento del paese più popoloso al mondo. E questo significa una perdita nell'ambito della produttività, settore fondamentale per quanto riguarda la crescita cinese ma soprattutto andrà a incidere su quello che è lo stato sociale e lo stato assistenziale vedendo alla bassa natalità affiancarsi anche l'invecchiamento della popolazione. Xi Jinping di fatto in ogni caso è riuscito, è riuscito ad ottenere questo grande successo unito anche al fatto che nell'ambito del contesto del partito comunista cinese una tradizione non scritta vuole che al sessantottesimo anno sostanzialmente si entri in una fase di pensionamento. Xi Jinping invece di anni ne ha 69 e oltre ad aver ottenuto il terzo mandato è riuscito anche a superare il limite dell'età. Insomma per Xi Jinping quello che in tanti prospettavano già nel recente passato ovvero quello di una presidenza che viene definita da molti eterna. Xi Jinping ha evidenziato molti aspetti importanti fondamentali anche negli assetti della politica internazionale e che potrebbero avere delle implicazioni nell'ambito delle relazioni con le altre realtà ma soprattutto con gli altri giganti nel contesto globale ad esempio gli Stati Uniti. Ovvero che per quanto riguarda la situazione di Taiwan di fatto non si discute. Taiwan viene considerata una provincia ribelle e nessun compromesso verrà accettato. Insomma per la Cina il ventesimo congresso rappresenta un punto di arrivo e un punto di partenza contemporaneamente ma che vede la continuità che si identifica nella figura di Xi Jinping il leader uscito dal ventesimo congresso rafforzato sotto molti aspetti ma contemporaneamente con delle problematiche all'interno del partito comunista che di fatto potrebbero limitarne il lavoro. Per oggi questo è tutto.